Roby bentornato a suonare la batteria. Eccoci qua. Allora oggi mi hai portato finalmente il tuo lavoro, il tuo metodo, libro, ritmologia. A chi si rivolge? Che problema risolve? Guarda nasce da una domanda che mi sono sempre fatto da appena iniziato. Il senso del tempo ci nasci, non lo insegni, è genetica. Quindi il concetto è questo qua, è veramente solo genetica. Vabbè la genetica prendiamola e la mettiamo lì. Però secondo me c'era anche veramente tanto altro da poter gestire. Come per l'orecchio, c'è l'orecchio assoluto, alcuni ce l'hanno, pochi. C'è l'orecchio relativo, tutti devono studiarlo, tutti i musicisti. Quindi il senso è quello. Sono partito da uno schema, quella è la genetica, poi c'è l'ambiente di nascita. Sono partito da due cose su cui non abbiamo il controllo. Per esempio l'ambiente di nascita. L'ambiente di nascita è un'altra di quegli status da smontare. Solo i neri hanno il senso del tempo, solo i neri hanno il groove. Io non credo che sia genetica perché se prendi un neonato di Harlem e lo fai adottare da una famiglia di Savona, a 16 anni mangerà la focaccia e andrà alla spiaggia. Non credo che sia il capo del ritmo in blues. Mentre se tutte le domeniche inizi a cantare, suonare, a sentire quella musica, diventi madrelingue di quella musica lì. Quindi quello è l'aspetto proprio culturale. Quindi quando parliamo di Cuba, Brasile, Africa, India, sono culture soprattutto molto legate alla fisicità del ritmo, che è un aspetto importante. Cioè il ritmo è percepito bene dal corpo, dalla voce. Quindi prima di pensare allo strumento far lavorare il cervello e far lavorare il corpo. In una società in cui si balla per gioia sempre, il senso del ritmo è molto percepito più facilmente. C'era una bella cosa che aveva detto Marachim. Se devo fare un disco reg, mi passo il pomeriggio prima in un reg club a ballare. Cioè questo è importante. In sostanza tu analizzi tutto ciò che viene percepito come ritmo nelle varie culture, tra l'altro con degli esercizi. Perché specifichiamo che questo non è un metodo per batteria. No. Questo è un metodo per tutti gli strumenti, dico bene, con anche degli esercizi che può fare qualsiasi esercizista. Assolutamente. Ogni capitolo. Quindi è un imbrido tra un metodo e un libro da leggere. Questo è un libro che per me è uno di quei libri da sottolineare, che poi ti vai a rileggere, perché ci sono dei concetti che mi hanno colpito oggettivamente in questo senso qua. Gli esercizi come vanno fatti ad esempio? Guarda, ogni capitolo ha una parte finale chiamata consigli per la pratica. Quindi qual è stato l'indice dei capitoli? Il concetto appunto che al di là del genetica e ambiente su cui non abbiamo il controllo, poteva esserci modi e strategie per raffinare la consapevolezza ritmica, la cultura dell'ascolto. Quindi cerchiamo di riparare la genetica con la consapevolezza ritmica e l'ambiente di nascita con la cultura dell'ascolto. Poi vari argomenti da come gestire i tempi irregolari, la poliritmia, modulazioni metriche, suonare avanti, suonare indietro, suonare sul tempo. Cioè tutto quello che poteva essere sviscerato dal punto di vista della percezione del ritmo. E' molto importante anche il fatto di mantenere sempre dei neuroni attenti all'aspetto del portamento ritmico espressivo. Quindi se noi abbiamo troppe distrazioni mentre suoniamo, se non siamo sicuri della stesura del brano, in quel momento lì c'è già uno switch di attenzione da voglio portare il tempo in un certo modo a l'inciso dopo due strofe o una. Quindi il nostro cervello non è multitasking, è come il computer che se apri troppi file... Infatti tu stai citando una cosa di cui parlava Gavin Harrison che è citato spesso nel libro e che so che ti ha dato anche dei feedback, che avete avuto un incontro, gli hai spiegato tutto. Allora Harrison mi ha fatto un regalo bellissimo che ha scritto la prefazione del libro. Io conosco Harrison, lo seguo dal 1990. Adesso vi racconto un aneddoto, mi ero trasferito a Milano, andavo al CPM in treno e un mio amico conosceva Fabrizio Consoli, chitarrista di Finardi e un giorno abbiamo fatto un viaggio in treno e mi raccontava che stava facendo il disco che era La Forza dell'amore, con questo sconosciuto batterista inglese. Quando è uscito il disco mi si è crepata la faccia perché in un batterista c'era tutto quello che mi piaceva. Quindi ho cominciato a seguirlo ai dischi, concerti, masterclass e l'ho incontrato varie volte e insomma siamo diventati amici e gli ho fatto una marea di domande. Io so che lui era molto interessato a questi aspetti del ritmo non come dono del signore ma come uno veramente attento. Allora io ho detto io ci provo, gli ho scritto, gli ho detto senti sto facendo questo libro mi piacerebbe però sentiti libero, cioè ovviamente se non vuoi va bene uguale così e lui invece è rimasto molto interessato, mi ha chiesto ovviamente di più notizie, informazioni gli ho tradotto un po' di robe e soprattutto poi mi ha chiesto se potevamo fare una zoom mi sono fatto due ore di zoom con la condivisione dello schermo gli ho spiegato tutti i vari punti. E ti ha dato la benedizione. E mi ha dato la benedizione, sì. Il senso di questi 40 anni di cercare di essere meglio giorno per giorno e quindi ogni volta che è un argomento, una roba, ah questo è bello, questo è bello alla fine mi sono trovato con appunti, appunti, appunti e ho messo tutto insieme. Tra l'altro hai messo anche dei video online che aiutano a spiegare i vari capitoli, dico bene? Sì, nel libro c'è un codice che ti permette di appunto entrare in questo database. Sì, l'idea è stata invece che mettere gli audio di tutti gli esercizi, di fare questi... sono una trentina di video, non c'è la batteria perché volevo che fosse chiaro il concetto, quindi... Però è un bel valore aggiunto. Sì. Senti, io so che tu lo pratichi, ma come mai hai messo lo yoga? Hai citato lo yoga nel libro? Lo yoga l'ho messo perché in realtà è uno degli aspetti... Tu immaginati, appunto, noi siamo già delle poliritmie, tu cammini e hai un 2, il cuore che batte in 3, parli con un tuo amico e hai già dei sedicesimi con degli accenti, non ce ne rendiamo conto, ma viviamo in un universo poliritmico. Quindi, quando tu sei molto agitato ti sembra tutto lento, quando tu sei molto depresso, angosciato ti sembra tutto veloce, ma tu devi relazionarti con gli altri, ok? Quindi, come mi sembrava importante l'aspetto anche della mente, sia per quanto riguarda la concentrazione, quindi la non distrazione, sia per quanto riguarda cercare di essere centrale, di mettersi in sync col click dell'universo, ok? Quindi, in certi momenti si fa più fatica perché senti certe pressioni, perché non hai dormito, perché hai l'ansia a mille perché c'è una diretta e le ho vissute tutte sulla mia pelle queste cose. Quindi sono 40 anni di strategie e allora ho pensato che non per diventare chissà cosa o per fare yoga a che livelli, ma erano piccoli consigli ed esercizi per fare un attimo il quadro, ti sincronizzi. Sincronizzi, arrivi un attimo allo zero, ti rilassi, inizi a percepire con un po' più chiarezza e riesci a gestire meglio anche, secondo me, proprio la questione, la sensazione di quello che è reale e il BPM, perché il tempo è veramente incredibile quanto sia soggettivo, no? Lo stesso Gary Chester parlava del tempo assoluto, no, Gary Chester forse, cioè del tempo del metronomo, con la matematica, e poi c'è il tempo del singolo, come lo porti, come lo senti, e poi c'è il tempo collettivo. Una band suona veramente bene quando hanno tutti lo stesso modo di portare alla questione, quindi se entri in questa ottica qua del tempo e dei dettagli, ti rendi conto quanto sia eccezionale, quanto questi minimi dettagli cambino completamente il risultato finale, quando senti i Toto, gli Airtwin and Fire, i gruppi, ma gli ACDC, gli ACDC hanno un groove bestiaire, cioè fanno gli ottavi, ma punto, però, cioè, mandano a casa chiunque, quindi, perché hanno tutti veramente la stessa intenzione. C'è anche un capitolo dove coinvolgi altri musicisti che si chiama Conversazioni. Cos'è questo capitolo? Conversazioni. Che è l'ultimo, se non sbaglio. Quindi, per esempio, il discorso del ritmo in Africa, il concetto africano, io prendevo il mio trenino, andavo a Torino da Bruno Genero. Bruno Genero è un grandissimo musicista, suona il gembè, balla benissimo, ovviamente, e che è andato a studiare tantissimi anni con Dudu Ondai Rose in Senegal, al punto che l'ha considerato un figlio adottivo. Quindi io non mi interessava suonare il gembè, non ho i suoni, però andavo lì, mi facevo spiegare tutte le varie poliritmie, i vari incastri. E quindi, partendo da questo, ho pensato che sarebbe stato molto bello chiedere a persone che conosco e che mi hanno arricchito personalmente. Quindi c'è appunto Bruno Genero per l'Africa, Elio Marchesini, che è un percussionista che lavora anche alla scala, per cui il concetto del ritmo nella musica colta. Poi, con Bagnoli, Stefano Bagnoli, che ho fatto tante cose insieme, un carissimo amico, una volta mi parlava di... Il diavolo e l'acqua sano. Il diavolo e l'acqua sano. Di quanto Louis Armstrong avesse proprio rivoluzionato col suo stile, come se avesse creato il nuovo ritmo, quindi gli ho chiesto appunto la rivoluzione ritmica in questa direzione. Poi c'è Omar Cecchi, che è questo mio amico che ha studiato la Conacle Academy in India, quindi mi sono fatto raccontare di come ha imparato lui queste cose in India e di come viene trasmessa questa bellissima arte. Poi ho chiesto a Gabriella Cella, che tra l'altro è di Piacenza, che è la mia maestra di yoga, che è una donna fantastica, che negli anni 70 è veramente andata in India con lo zainetto a piedi, che in certi ashram le donne non potevano nemmeno entrare, ha scritto tanti libri e mi sembrava bello portare tutte queste condivisioni che io ho avuto e che mi sono veramente servite e che fossero presenti. Senti, questo è distribuito da Marco Volontè, lo troviamo già un po' dappertutto, online, nei negozi. Esattamente. E cosa succederà adesso? Lo porti in giro, fai degli eventi, fai delle cliniche o è finita qua? No! Cioè, ritmologia, io so che dovrebbe andare on the road. Deve andare on the road, ma so che per te rappresenta un po' un 2.0 della tua carriera musicale. In effetti è arrivato, secondo me, in un momento in cui io volevo cambiare anche un po' di cose, sentivo la necessità di, mi sentivo, non lo so, nell'anticamera di una nuova sezione della vita, volevo cambiare delle robe, volevo farne di nuove, non volevo farne più altre e questo libro voleva essere una ripartizione, partiamo da qualcosa. Quindi voglio sicuramente fare adesso una serie di incontri in negozi, ma mi interesserebbe proprio pensare a masterclass, campus, legate soprattutto anche all'aspetto pratico. Quindi, dato che non è un libro solo per batteristi, perché è anche nato in seguito a un'esperienza che da un po' di anni al CPM faccio di un corso proprio di percezione ritmica per tutti gli strumenti, ok? Quindi il concetto di far arrivare tutte queste informazioni a cantanti, chitarristi, quindi a strumenti che, per il tipo di cultura che abbiamo in occidente, sono più concentrati su altri aspetti, sull'aspetto armonico, sull'aspetto melodico, ok? Mentre per esempio in India, che l'aspetto armonico non c'è, è più ritmico e melodico, i cantanti, cioè, sono degli ingegneri del ritmo, proprio perché prima di tutto con il loro sistema delle sillabe, compagnia bella, il loro solfeggio è già una meraviglia, ok? Quindi voglio creare, mi piacerebbe portarlo, organizzando anche per piccoli gruppi, che chitarristi, bassisti, potessimo fare le varie esperienze degli argomenti trattati. Beh, allora, fammi sapere come evolve, ritmologia, in bocca al lupo, Roby, grazie mille. Questa è la mia copia, assolutamente, per forza. Grazie. Pranzo pagato.